E' tutto pronto a Pescara per la raccolta porta a porta, che sarà diffusa prima a Porta Nuova e poi nella zona centrale. Istruzioni per l'uso dalla Presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli. Sì, il 15 è una data indicativa, ci tengo subito a premetterlo, perché come tutti i sistemi che vanno in cambiamento ci sarà bisogno di alcuni giorni di adeguamento. Dal 15 settembre però avviamo tutte le attività per portare nella città di Pescara il cosiddetto porta a porta, cioè ritireremo i rifiuti in maniera diversa da come è stato fatto fino ad oggi. Dapprima nella zona di Porta Nuova e poi mano a mano fino ad arrivare in centro. Si tratta quindi di avere dei mastelli dedicate ai singoli rifiuti, la carta, la plastica, che verranno raccolti mano a mano dagli operatori di Ambiente. Naturalmente voglio tranquillizzare i cittadini, riceveranno nei prossimi giorni, nelle loro cassette postali a casa, delle lettere di presentazione del servizio con le istruzioni, con la tempistica e anche un calendario dei giorni in cui si conferiscono alcuni determinati tipi di rifiuti. In contemporanea ci saranno anche nella città alcune cosiddette campane per il conferimento del vetro e poi tre grandi isole per il momento, una in centro, una nella zona nord e una nella zona sud, che potranno essere utilizzate 24 ore su 24 per conferire rifiuti speciali. Per accedere a tutto questo, tra l'altro ai cittadini interessati, cominceremo anche a consegnare delle schede magnetiche a nostro carico, quindi non ci saranno ulteriori spese per i cittadini, tessere magnetiche che consentiranno di fare aprire questi grandi contenitori e che i cittadini potranno utilizzare sotto la propria responsabilità, ma naturalmente senza alcun fastidio e alcun rischio. Ci sarà ovviamente sia il vecchio che il nuovo, come dire, la precedente situazione con la nuova situazione per far sì che i cittadini possano abituarsi a questa raccolta porta a porta. Giusto, questa è una giustissima osservazione e anche qui voglio tranquillizzare i cittadini, soprattutto di Pescara. Quando c'è un cambiamento da un vecchio sistema al nuovo, naturalmente non si fa tutto dalla mattina alla sera, ci sarà un cammino parallelo tra il vecchio e il nuovo. I cittadini dovranno abituarsi, i nostri operatori sono comunque a sostegno e a disposizione dei cittadini, li guideranno e li assisteranno in questa procedura. Quello che chiediamo è un po' di pazienza, ma stiamo facendo un passo importante per l'ecologia, per l'ambiente e anche per l'economia, perché questo significa non aumentare ulteriormente la tassa sui rifiuti. Grazie.